questo era un minerale RAVE! E finalmente vaffalculo!! Perchè io non carico piove più me mi faccio più caso S.I.I.I.'RAME 3 ANNI regà, una cosa perfetto equipaggiamento PINNE Nuoto più velocemente Ora, dispiegabili E abbiamo il nostro fantastico Siglight, raga Perfetto, io direi anche Di tenerci una cella Di energia Dove è E ciao a tutti ragazzi Qui Thundering Light E oggi siamo su Subnautica Come probabilmente avrete potuto notare Dalla carta di salvataggio E siamo con uno sfida speciale Il nostro caro scemo Riccardo Salute Riccardo Grazie per tutto con la simpatia Da volte di serta A beh, comunque non si era capito che lui era Rileggiando, no vabbè Neanche nel video di spore si era capito Allora, dal video precedente Eravamo rimasti che eravamo morti A causa di quei 30 pesci alla Akbar Ma ti fai prendere L'urido stronzo di uno spircio L'ero sacco, l'ero sacco Intanto dobbiamo cominciare con la pesca Perché ci serve Ma comunque te lo sai Se lo stai chiedendo Io resto un po' a guardare Cioè faccio un cazzo A beh, quel che fai nella tua vita in genere Non mi offendo perché è pur sempre la verità Perché sono una persona sincera Ohela, si sta facendo giorno E direi di tornare in quella zona In cui sono morto Perché ho fatto Dai! Perché appunto ho fatto uscire Dalle loro tane Tutti i pesci che mi hanno ucciso Forse quasi tutti Ma non penso saranno abbastanza da uccidermi Dato che c'è anche un kit medico Titanio del cacchio Maledetto! Forse è qui, da questa parte Doi, ti prego Rame, ti prego Rame Ma maledetto titanio del cacchio Voglio il rame Il ramen voglio Questo era un minerale Rame, finalmente Ma fa culo Dai, regà, ne devo trovare altri due di rame Altri due e siamo a posto Intanto direi di andarlo subito a posare Questo qua di rame Non sia mai che ci voglio un'altra volta, no? Ragazzi, vedete che io parlo a bassa voce Tipo, po' che ci date Perché io, tipo, non carico più video Non faccio più di cazzo Perché non c'ho voglia di farlo E' diverso Cioè, proprio la mia voce E non so, e non so Anche perché Cioè, è un computer dell'ottocento No, no, no Non faccio più quello Cioè, manco ce l'ho più Ah, ti si è rotto? No, non lo uso più Ah, bravo Sì, è pure rotto Sì, è pure rotto Ecco, hai detto bene Ai, ai E' tutto non funzionante nella tua casa Come il tuo cervello Te l'ho messo in vostra simpatia Siamo molto amici noi due Non ho le robe per fare il cibo Trattato Direi di depositare il pesce buco Che è l'unico che abbiamo raccolto fino ad ora Mi tengo giusto Sì, questi tre pesci basta Ne avanzano E direi inoltre di prendere il coltello da sopravvivenza E etichettarlo come Direi uno Poi l'idrante con Quattro Uno, due, tre Eh, tre E basta Sì, uno, due, tre Sì, perfetto Tutto a posto Ora direi di tornare Sì, uno, due, tre E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra Lì c'è la caverna Probabilmente Ultre Addio Non voglio morire Già ne ho racconto un altro L'ultimo mi manca Ma Ha involgato l'ultimo Sì, ma quelli ti arrivano in faccia E ti esplodono E' difficile ucciderli Quelli come si Sì Sì Tipo rallentato Allora, raga Devo trovare assolutamente Una zona Addio Ma io proprio Con una persona del genere Dovevo fare un gameplay No, dai, raga No, dai, raga No, ma ti taglio del cacchio Sì Sì Rave Tre anni Mi fai parlare Era così facile da trovare Ci ho messo un episodio No, vabbè, dai, raga Come, raga Cristo È zitto Oh, sto facendo il gameplay Attimo Via E te ne vai Bravo E io mi taglio il tuo cellulare E io mi taglio il tuo cellulare No, ma, ma, no Mi fai pure sbagliare a giocare Ma L'individuo del genere E io mi taglio il mio cellulare E io mi taglio il mio cellulare C'è pure mezzo Lo so Come le mie palle Divino un po' chi è Che le robe Aspetta un secondo Questi Via Allora 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 Un attimo Allora Devo raccogliere E ora C'ho perso Di rame Ma Vaffanculo E ora Devo andare a cercare Un altro Che troverò Dopo Tre millenni Probabilmente Forse no 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 Vediamo Ora dobbiamo andare All'avventura Sai perché Perché ora ci sarà un pesce Che ci sarà appiccicato Al culo Un pesce al culo Ecco Mi metto tutte le cose Più importanti Qua dentro Mi prendo L'altro kit Di pronto soccorso E forza Andiamo subito Perché ci servono Due o tre Grappoli Di Creepvine E Penso Si trovino Non mi ricordo Dove Proviamo ad andare lì Perché Di lì mi ricordo Che c'è qualcosa Ma di qua Forse c'è La foresta di Creepvine Subito Speriamo di sì Probabilmente No Dio santo Là ci sono i sand shark Cos'è il territorio Di sand shark Che cacchio ci faccio qua Come ci sono arrivato All'uovo Cristo ce ne sono due Cazzo Pai asma Ma perché Ma dove favo io bruttoide Pazzoide Oddio Perché il mondo è diventato da me Un occhio Dio santo Quel suono Non mi piaceva Per niente Vabbè Io non ho sentito Un cazzo Che è una buona Un parola Eh Ma perché Vieni verso di me Vattene Da quanto son distante Già 150 metri Ma quanto mai Ho notato così tanto Ma perché Vistate dove ci sono I semi a grappolo Di Creepvine Che sono proprio Quelli che mi servono Ce ne avevo uno dietro Cristo Dio santo Ok Ce l'abbiamo fatta Ci siamo fatti mozzicare le chiappe Da quello schifo là Però ce l'abbiamo fatta Abbiamo tutto quel che ci serve Ora possiamo creare Il ziglight E lo strumento Delle riparazioni Siamo Avantissimo Ragazzi Cioè Allora Eh Ok Ancora niente Quindi Fabbricatore Risorse Materiali Bastici Intanto Direi di creare Subito Il lubrificante Cosa serve Per questo Poi Il titanio E la batteria Ok Ce li ho tutti Ora Intanto Direi di creare Anche la gomma Siliconica Mentre in tutto questo Vado a raccogliere Uno di titanio Oddio Santo Cos'è Ok Quindi Uno di titanio Ah Già ce l'ho Perfetto Una batteria E un filo di rame Perfetto Ora Dispiegabili E abbiamo Il nostro Fantastico Siglight Perfetto Io direi Anche Di Tenerci Una cella Di energia Dove è Sì Questo va A cello No Questo va A batteria Giusto Poi sarà un altro Che andrà A Cielo di energia Quindi intanto Creiamo Un'altra gomma Siliconica Vediamo Intanto Sostentamento No Strumenti Ci serve Lo zolfo Delle caverne No Dai Ok Forza Andiamoci a crepare Fantastico Ok Allora Cambiamolo di contenitore Oddio Santo Sta per accadere Quella cosa Ok Hai finito Di Fare Il presidente Della repubblica Dobbiamo raccogliere Delle fonti D'acqua Perché Stiamo Rimanendo Senza Acqua Oh Gesù Ma Cristo Santo Proprio Di notte Ragazzi Mi Lo faccio Andando A Sergio Vabbè Anch'io Vorrei Farti Un'altra Un'altra Per la Intelligenza Mancata Dove Cacchio Sto Andando Rega Giro Vagando Per I Mondo Non giro Pagando Per I Mai Il mio Coltello Lancero E' Amata Mi fai capire Come cacchio Fai a lanciare Un coltello Sotta Quello Che cacchio E' Quella Roba Addio Dice Ti Dobbiamo Il Ciao I Già Io Devo Capire Che Cos'è Quella Roba Niente Devo Trovare Quei Pesci Al Al Bara Al Al Mentre Cacchio E Vabbè Due Ma che cacchio vuoi dalla mia vita? I pesci mordiculo Aspetta Prima che mi mordesse le chiappe Vaffanculo Guarda come si è buggato E' mia Oh cazzo Sono nella mezza Cristo Ma che cosa No aspetta fammi capire Ma che cazzo Ma si è buggato fammi capire Mostra Ragazzi perché Mio madre mi messa Aspetta devo vedere se c'è il kit medico Sì Cristo Sono questi Cristo A che ci devo morir di nuovo Anè Che ricompaiono poi quegli schifi L'hai capito Ma stavolta Ma stavolta io Sapete che cosa faccio? E sto svolgiamo E inoltre Non c'è Non c'è lo zolfo delle caverne Ma che cacchio ci fai qua? Maledetti Non c'è Ma che cosa Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Però se io mi trovo a distanza Ragazzi una cosa Perfetto Equipaggiamento Pinne Nuoto più velocemente Sì sì lo so che cosa fa il fabbricatore Strumenti Abbiamo lo strumento per le riparazioni Possiamo riparare la nostra cazzola di salvataggio Direi di creare tutta l'acqua possibile Perché? Ecco Allora raga Ho creato il sea glide Proprio Prima che esplodesse la nave Ed è quello che mi serve Per raggiungere la nave dopo che esploderà Perché si poi si fanno tutte Cose belle comunque Direi che per questo episodio Abbiamo fatto più che abbastanza Quindi le esplosioni Ve la lascio al prossimo Perché dai non so più nella bella Però niente questo è Quanto per questo episodio Quindi mi raccomando se il video vi è piaciuto Ricordate di lasciare un bel like anche per questa Faccia qua che Questa testa qui bellissima Molto più pesante Dovrebbe essere molto più pesante la tua testa E ciò mi preoccupa Perché non lo è Ti manca il cervello caro Ecco No aspetta no Così è pesante Devi fare così No Mettiti così Aspetta Stuggiamo un attimino Ok Ah così perfetto Quindi se il video vi è piaciuto lasciatemi un like Se volete seguitemi anche nei social che trovate qui giù in descrizione Se volete Se volete inoltre lasciate anche un bel commentino che non mi dispiace E iscrivetevi Attivate la campanellina delle notifiche Ci cerri tanto grazie E quindi non so perché neanche io stia battendo sempre le mani Mi ha contagiato un po' della sua stupidità Ma vabbè niente E basta Da Thundering Light è tutto Posso parlare io? Iscrivetevi al mio canale Ma quando fai il video Guarda appena riprendi a fare il video E quindi Da Thundering Light E del Channel È tutto Ciao Ciao Cosa facciamo ora? Io direi Direi a guarda il primo Inanzi No, vediamo Ma è meglio che mi facciamo a guarda l'adesina Perché se no mia madre Mi ne è vinto il C.H.C. per infus Quando facciamo a guarda l'adesina Non si è ancora fermata Della testazione Prex Ragazzi 4 6 bellissime ?" uuuuh